Salve a tutti, oggi vi mostro uno dei nuovissimi timbri Pink Your Life disegnato da Nicoletta Zanella ed è una ragazzina sulla spiaggia con il suo salvagente e i suoi occhiali a forma di cuoricino veramente delizioso. Lo utilizzeremo per creare una card che poi io regalerò a un'amichetta di mia figlia che compie gli anni proprio in piena estate. Per realizzare questa card abbiamo bisogno di un pezzo di carta d'acquerello, delle diverse polveri da embossing ed andremo ad utilizzare nello specifico la polvere clear pacific blue che è una polvere particolare perché è una polvere trasparente quindi ci permette proprio di ottenere l'effetto acqua e poi andremo ad utilizzare anche la polvere ice blue che avevamo anche utilizzato in altri video e creeremo proprio l'effetto mare e applicheremo la polvere più volte e nel passaggio finale andremo a miscelare le due polveri con l'utilizzo di un piccolo pennellino mentre la polvere ancora calda. Per creare la sabbia invece utilizzeremo la polvere golden sand, proprio la polvere sabbia. Ci servirà ancora il bersamark a pennarello questa volta che ha due diverse punte, più grande e più sottile, l'archival ink per timbrare e poi coloreremo sia la bimba sia il cielo e anche il sole con gli acquerelli e un pennello a serbatoio. Il materiale è pronto, non ci resta che metterci al lavoro. Andiamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!